I bambini della bilancia sono bambini dominati da Venere, quindi sono belli. Sono belli, esteti, eleganti, imparano presto a dire grazie, buongiorno, sanno comportarsi bene in società. Sono bambini che amano la relazione, quindi fin da piccoli hanno bisogno di vedere i genitori di fronte, perché più che vicino lo vogliono davanti, loro hanno bisogno di capire chi sono e lo capiscono solamente se hanno una relazione, quindi cercano di creare queste relazioni parlandovi in un modo molto dolce che vi intenerisce. Sono degli artisti, quindi ogni cosa deve essere fatta bene, deve essere presentata bene, perché la forma e la bellezza per loro e l'armonia generale per loro è molto più importante di qualsiasi cosa, non guardano la sostanza, guardano come gli presentate le cose, come è il loro lettino. Sono bambini un po' indecisi, perché è un segno un po' doppio, nel senso che vorrebbero fare, però non hanno la forza e l'aggressività, quindi cercano di sedurvi col sorriso e con le buone maniere, ma nello stesso tempo quando sono insieme agli altri bambini hanno bisogno di essere incoraggiati per partecipare più attivamente alla vita sociale. Grazie per la visione!